Bravo sei, in silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, oggi dovete spaccare il video, superiamo almeno i 1000 mi piace perché vi spiegherò l'alfa giocabile di Vanguard, le date della beta e chi più ne ha più ne metta, quindi mettetevi comodi perché saranno veramente tantissime le notizie di cui parleremo in questo video. Iscrivetevi se siete nuovi del mio canale di YouTube, mi raccomando, road to 90.000 iscritti, oggi alle 13.30 in live così risponderò a tutti i vostri dubbi, domande, chi più ne ha più ne metta. Ma partiamo subito perché anche l'insider Modern Warzone in queste ore ha confermato un'indiscrezione trapelata dalle ultime ore dal leaker Victor Zed e cioè che sarà possibile sparare alla cieca sul titolo. Attualmente non c'è una conferma ufficiale e poi vi spiegherò tutto quanto. Guardiamo un attimo questi due screen riportati invece dall'insider Tom Henderson. In uno potete vedere che il numero massimo dei giocatori all'interno di Vanguard sarà 48, quindi molto presumibilmente ci sarà anche qui una modalità guerra terrestre. Dall'altro uno screen relativo al multiplayer dove è possibile vedere un aereo e addirittura carri armati. Quindi questo farebbe pensare ragazzi appunto a questa modalità guerra terrestre. Vi terrò aggiornati. Apro e chiudo parentesi perché come sapete nel 2022 ragazzi arriverà molto probabilmente MV2, il sequel di MV2019 si è sviluppato dall'Infinity World. Bene, secondo MV2G, secondo i suoi informatori, secondo le sue talpe, secondo appunto le sue fonti, lo sviluppo e quindi il sequel di MV2019 procede molto bene. Ho ricevuto, ha dichiarato alcune informazioni su MV2, a quanto pare lo sviluppo è più avanti rispetto al previsto con ancora più di un anno. Per completarlo dovrebbe essere in buono stato una volta che sarà il momento di essere rilasciato. Quindi una cosa veramente molto interessante. Mentre l'insider MV2G ha svelato la presenza della score streak dei cani all'interno del multiplayer di Vanguard. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali ma speriamo perché era veramente una modalità, o meglio una score streak devastante. L'alpha della modalità Champion Hill, la collina dei campioni di Vanguard, che è stata trovata nei database di PlayStation di cui vi parlerò in questo video, è stata aggiornata nelle ultime ore passando alla versione 0.1.0.0.2.0.0.0.0. Le dimensioni però del download rimangono invariati. Stati Uniti 20,376 GB, Europa 21,233 GB, Asia 19,962 GB e Giappone 19,838. L'insider Ghost of Hope invece ieri pomeriggio ha confermato l'indiscrezione dei giorni passati relativamente alla mappa di Warzone, anticipati da Tom Henderson, ma si preoccupa molto su come sarà appunto questa nuova mappa su Old Gen. Ha dichiarato distruzione più potenzialmente il numero maggiore di giocatori, si parla di 200 giocatori, più una mappa che dovrebbe essere un terzo più grande se non il doppio di Verdansk. Sarà sicuramente un incubo per la vecchia generazione e non so neanche come funzionerà, come girerà all'interno del titolo. La Sledgehammer Games invece ha confermato che Vanguard è il risultato del lavoro di squadra veramente molto grosso, composto da bene 5 software house. Infatti c'è la Sledgehammer Games, la Raven Software, la Treyarch, che si occuperà esclusivamente di Zombies, Lightmoon Studios e la Binox Team. Invece è stato confermato dal blog di PlayStation che Call of Duty Vanguard supporterà pieno le funzionalità del controller DualSense di PlayStation 5. Mentre lo store di Microsoft è andato a rettificare le informazioni dei giorni passati. Vi ricordate che riportava la bellezza di 270 GB come peso finale. Bene, adesso ha indicato peso approssimativo 95 GB, già un po' più gestibile rispetto appunto a quello che era trapelato nei giorni passati. Mentre, secondo le informazioni di Ghost of Pop, sembrerebbe che all'interno del gioco sarà presente una variante della S44-AK47, arma che è iniziata ad essere progettata verso la fine della guerra da parte dei sovietici. Vi darò aggiornati poi anche sulle armi confermate o meno all'interno del gioco. Ma come state vedendo già nel video informativo è passato in sottofondo il video gameplay che mostra la modalità Multiplayer Champion Hill, la collina dei campioni, nuova modalità scontro, una nuova modalità Gunfight che riprende appunto da quella che c'era all'interno da MV, ma la porta ad uno stato avanzato, ricordo un po' Arena di Apex. Bene, questa modalità sarà disponibile per tutti, capite bene, per tutti, ovviamente solo PlayStation, dal 27 di agosto al 29 di agosto. Come è stato su MV la modalità scontro, quindi se avete una PlayStation o PS4 o PS5, non vi serve neanche il plus, dal 27 di agosto al 29 di agosto potrete giocare questa modalità, quindi questo fine settimana ci faremo molto male. Durante invece la finale della Call of Duty League sono state anche annunciate le date della beta di Vanguard, quindi tutto quello che vi ho riportato nei giorni passati è stato confermato ufficialmente, ecco perché vi dico sempre seguitemi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi qui su YouTube perché non vi perderete mai le notizie in anteprima. Partiamo innanzitutto, il primo weekend vandrà dal 10 al 13 di settembre e ovviamente potranno giocare soltanto coloro che hanno il pre-order su PlayStation. Il weekend 2 sarà dal 16 al 17 di settembre open beta su PlayStation, solo pre-order per Xbox e PC, dal 18 al 20 di settembre sarà open beta per tutti quanti, quindi facciamo un riepilogo di tutto quello che accadrà. Dal 27 agosto al 29 di agosto, alfa per tutti coloro che sono su PlayStation, non serve il pre-ordine ma non serve neanche il plus. Dal 10 al 13 di settembre dovrete avere ovviamente il plus e cosa molto importante, dovrete avere il pre-ordine su PlayStation. Dal 16 al 17 di settembre open beta su PlayStation, soltanto pre-order Xbox e PC. Dal 18 al 20 di settembre open beta per tutti quanti, quindi non serve il pre-ordine. 7 settembre, altra data vi do, ci sarà invece il worldwide multiplayer reveal, quindi sarà svelato tre giorni prima dell'arrivo della beta il multiplayer del gioco. Sentite un'altra importante informazione sull'alpha che così ragazzi sapete come muovervi. Il pre-download dell'open alpha, ovviamente esclusiva PlayStation di Call of Duty Vanguard, sarà attivo da oggi, 23 agosto, alle ore 12 italiane, per tutti ovviamente gli utenti PlayStation. L'alpha però potrà essere giocata poi dal 27 di agosto alle ore 19 italiane, quindi cosa molto importante, passeremo un weekend veramente molto interessante, ci disintossicheremo un po' da Warzone e ci faremo un po' di male sull'alpha della collina dei campioni. Comunque quando c'è la traduzione delle modalità dall'inglese all'italiano si perde sempre perché Champions Hill è molto più bella rispetto alla collina dei campioni. Vi faccio vedere invece alcuni screen appunto di fermi immagine sulle quattro mappe che ovviamente avremo la possibilità di giocare nell'alpha. Vi ricordo che queste quattro mappe saranno disponibili anche al lancio del titolo, quindi cosa molto strana che quattro mappe saranno giocabili nell'alpha e poi nel lancio di novembre saranno sempre quattro, perché vi ricordo al lancio saranno 20 le mappe multiplayer, quattro della modalità collina dei campioni, sedici della modalità 6 contro 6. Quindi le quattro mappe sono courtyard, market, train yard e airstripe. Alcune veramente molto molto carine, si vedono dei frammenti fatti bene nel video gameplay. Da quello che si può notare, sembra che la palette colori come era stato confermato è molto più vicina a cold, quindi i colori mi sembrano essere molto più accesi rispetto a quelli che erano appunto quelli di MW. Questo era tutto quello che ve lo dire sul nuovo video informativo incredibile che vi avevo detto. Superiamo il 1000 mi piace, iscrivetevi se siete nuovi, appuntamento con me 13.30 live, piattaforma viola e domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG Code.